Andrea Bonetti Buongiorno, mio nome è Andrea Bonetti, lavoro per Mager e sono qui per raccontare la nostra nuova tecnologia, la tecnologia digital twin technology, per un test set digital relay test set. Abbiamo qui il nostro software, il software RTMS, che si può connessi ad un test set fisico, SMRT46. A stessa volta, se invece chiedere di connessare il mio software RTMS sull'applicazione fisica, fisica twin device, possiamo connessare con la Mager digital twin test set. E qui lo connessiamo. La digital twin test set è un'applicazione nel computer e abbiamo sviluppato diversi tipi di twin digital. Il tipo che abbiamo qui nel fisico è SMRT46 quindi stiamo connessando con la SMRT46 digital twin. E vedete che sembra come esattamente la digital twin che abbiamo appena connessato. Qui andiamo, in questo momento siamo in un ambiente digital twin. Cosa facciamo con la digital twin? La digital twin è, in generale, una replica copia digitale di un asset fisico. Quindi il nostro twin è una copia digitale del test set fisico. E, ovviamente, non può fare molto fino a che sia connessato ad un altro twin digitale, che è un relato digital twin. Quindi, con un test set digital twin test set, testiamo un relato digital twin. relato digital twin. Abbiamo un relato digital twin relato di Siemens. E poi abbiamo il test digital twin test set di Mager. Questa è l'idea. Poi, come le due 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 interconnettano con l'altro. Relato digital twin e testato digital twin. Le due 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 possono interagire. E possiamo fare un test virtuale. Il test virtuale si è performato dal visualizzato digitale sul nostro computer allo relato digital twin, sul cloud. E, poi, vedo come fare questo test. Ora, provo a mostrarvi come funziona la visualizzazione digital twin. Per la prima cosa, credo che andiamo all'internet e connessiamo con l'environamento virtuale del C-Protek digital twin. Qui siamo. Il rilai che stiamo testando oggi è il rilai 7SA86, il rilai di protezione di distanza. Abbiamo alcuni altri rilai digitali qui, ma per il momento ci concentriamo su questo rilai. Quindi, come funziona? Per la prima cosa, dobbiamo collegare il rilai digital twin con il rilai digital twin. Questo è come facciamo la connessione. Prima connessiamo l'avventura del file API, che significa il rilai digital twin. Quindi abbiamo SMRT, Voltage 1, Voltage 2, Voltage 3. Connessiamo virtualmente con l'internet analoge Voltage 1, Voltage 2, Voltage 3 del rilai 7SA86. Poi, connessiamo i correnti, posso eliminare questo. Quindi, connessiamo l'internet del test set con l'internet analoge Poi, bisogna connessare il rilai. Quindi, il rilai di output del test set per il momento non è usato. Non rilassiamo il rilai di banale del rilai. Ma nel rilai di banale del rilai, bisogna essere connessi al rilai di banale del test set, come noi normalmente facciamo. E qui abbiamo deciso di connessare, per esempio, possiamo decidere ora, di connessare il rilai del rilai di banale del rilai di banale del test set. Questo è finito. A questo punto, activiamo il rilai di protezione. Rilai di banale del rilai. We will activate the protection relay, and the protection relay is alive. Let's wait for this process to be done. and let's go now at the same time to our test set so if you remember we said that we need three currents and three voltages so we will not use voltage number four and also we said that the binary output the trip contact of the relay this relay binary output one is connected to binary input one of the test set so i have to do this connection because usually it's not done like that in fact you see it's not but now i will set the binary input one to be the trip signal and we can prepare a simple pre-fold fault in zone one distance protection zone one instantaneous time set time is set to zero so may may trip in 10 20 milliseconds we prepare fault currents pre-fold currents zero pre-fold currents and we give a full fault voltages we are working in secondary values now we could work in primary but now we're doing secondary how much time do we do the pre-fold we can do the pre-fold for two seconds for for example and we give up if we don't trip within 100 milliseconds sorry we give up if we don't we declare no trip if we don't trip within 100 milliseconds and the fault in forward direction would be maybe four ampere fault current minus 80 degrees so we give a three-phase fault on the more or less on the line angle and we can drop the voltage to 20 volts this is definitely a fault in zone one with zero degrees so we have the impedance of five ohms secondary at plus 80 degrees and unfortunately the the digital twin relay is not up yet so at this moment you can i don't know what you can do you have to cut this and we wait until the digital twin relay is up i don't know now it's up one two three so at this point we have done the pre-fold fault the digital twin relay is up running we can clear the set test the lights and we can do our sequence we start our sequence it's preparing the waveforms and this is and this is uh connected to the digital twin relay sending the waveforms up to the relay relay reacts you see the relay has tripped and we have received the trip time we have measured the trip time from from the relay so the binary output of the relay has triggered and the binary input of the test set has triggered and we have stopped our timer 12 millisecond so this can be done into we can put this one into the report we can give you a maximum trip time or 50 milliseconds we can expect a you never know what to write here you should expect zero actually because the timer is set to zero but there are people thinking differently that's fine we expect the maximum 50 millisecond trip time we have it and actually we can save this file we can save this report we can run this test once more later on in the physical world we can run this test against the physical test set another test we can do it's to flip this full current by 180 degrees so we have a full current of 100 degrees so now the full current is reversed by 180 degrees we can keep four ampere it's the same fault in the in the same distance at the same distance from the cities but in the other direction and we can run this test and to see that that i have done a mistake so you will probably see that we don't trip we don't trip because the post full time the the full time is too short so we the relay will start but the relay does not trip that's okay this means that all these things are working if i had done this test in the reality this error would i would have paid the same way the same price the we believe that the relay did not trip the relay did not trip because we didn't inject the fault for the time of the reverse fault which is probably one or 1.5 seconds so i have to change my test plan and i give you here two seconds and now we run it again many times we have errors in how we perform the test and not in the relay settings so now we go again connect to a digital twin relay send the waveforms up to the relay wait for the contact to trip and hopefully trip in one one second and this is also good for me so i save it in the report i can say 1050 milliseconds yeah sure 1050 this really can be 1000 and then we are saved at this point exactly in the same way we do in the reality i can reset the relay i can go to my test plan i have maybe it's better to change the name of this test zone one zone four good here we go i can pass this file to another person and you can run it against a digital twin again or you can run with the physical test set towards a physical relay so now we repeat the tests against the digital twin to show that all of this is very easy to manage we run all the tests one after each other run all then everything is prepared just repeating the tests connecting sending the data prepariamo per il secondo fault o il secondo test e qui siamo abbiamo un nuovo report abbiamo un nuovo report con i nuovi timers con i nuovi risultati e questa è la filosofia di questo è di ripetere i testi virtuali ripetere in un mondo fisico tutti i testi che è molto facile presa il butto e ripetere tutti i testi o ripetere alcuni dei testi che sono i testi più importanti che vuoi ripetere nel mondo fisico e poi se hai problemi potremmo avere connessioni fisiche o potremmo il settore dei relay non è il stesso file che dovrebbero usare questo è un modo di facilitare il testo virtuale perché due digital twins il relay digital twin e il testo digital twin potrebbero condividere i dati con il software i sims digital twins condividono i dati con il software Dixify software e noi spieghiamo i dati con il nostro software RTMS ma i nostri file testi sono completamente interoperabili e i file Dixi sono completamente interoperabili quindi fissi l'errore nel mondo virtuale e ti testi e ti downloadi tutto nel mondo reale che era interessante fino alla prossima Hey ragazzi, siete pronti? Potremmo uscire i dati del relay setting e del test plan di data? please Grazie a tutti. Grazie a tutti.